Il cavario del Pescara si consuma tra i veleni. Nuovo atto intimidatorio nei confronti del presidente del Delfino, Daniele Sebastiani. Sull'episodio avvenuto domenica sera, intorno alle 23, sta indagando la polizia che sta nel frattempo stringendo ancora di più il cerchio per i fatti relativi al primo attentato subito dal patrono Biancazzurro. L'incendio ha piccato nella notte tra il 6 e 7 febbraio scorsi all'esterno dell'abitazione di Sebastiani, dove sono andate distrutte due vetture e che poteva avere conseguenze più serie per tutto lo stabile, visto che le fiamme per poco non hanno raggiunto la condotta del gas del palazzo. Per questo episodio già tre giovani sono stati individuati e risultano indagati. Sono tre tifosi ma non appartenenti a gruppi organizzati. Sugli altri due gli investigatori sono prossimi all'individuazione. La polizia ancora una volta potrà esaminare, come avvenuto a febbraio, le telecamere di sorveglianza poste all'esterno dell'abitazione di Sebastiani, lungo la rivera nord, per tentare di risalire all'autore o agli autori del gesto intimidatorio. Gli agenti non escludono alcuna pista, ma anche in questo caso potrebbe essere ricondotto agli ambienti della tifoseria non organizzata e dovrebbe essere la conseguenza di ulteriori malumori a seguito della sconfitta casalinga contro il Crotone. Squadra volante Digos domenica sera hanno recuperato frammenti di un petardo di grosse dimensioni. Il boato fragoroso è stato sentito dagli abitanti della zona, tra questi lo stesso Sebastiani, che era da poco rientrato a casa. Il presidente del Pescara ha incassato le testimonianze di solidarietà dalle istituzioni, in particolare dal sindaco Alessandrini e dall'assessore comunale allo sport Diodati, ed ha ribadito che non si farà intimidire e che andrà avanti per la sua strada. La tensione dunque resta alta, pur in una stagione che ha già consumato il suo verdetto principale, ovvero la retrocessione immediata del Delfino in Serie B, e quel che più fa male, la sequela di numeri negativi e record che sta accompagnando la disfatta sul campo dei Biancazzurri. Una disfatta cui neanche lo stesso Zeman, con una squadra non fatta da lui né tagliata per il suo gioco, ha saputo opporsi. Così è già tempo di programmare la prossima cadetteria, con una rosa extra large di 50 giocatori da sfoltire e un progetto tecnico da ricostruire da capo. Nella testa del Boemo c'è già la consapevolezza che in pochissimi saranno a lui utili il prossimo anno. Il tutto mentre la società cerca ulteriore stabilità futura, come dimostrano la missione in Cina di Sebastiani e l'incontro che il presidente del Delfino ha avuto col Magnate Kazako, Hussein Kasanov.